Ed ecco finalmente il 64esimo festival della canzone italiana che si svolge a Sanremo, ridente cittadina della costa Ligure. Anche quest'anno, come da tradizione, il festival dei fiori si tiene nel mitico e prestigioso teatro Ariston. Per il secondo anno consecutivo Carlo Conti presenta la Kermes, che non è solo musica, ma anche spettacolo, informazione, gossip e soprattutto l'evento mediatico più importante in assoluto nel bel paese. A far compagnia Carlo Conti quest'anno Mamma Rai ha scelto la bellezza, dalla modella rumena Madalina Ghenea, già ospite lo scorso anno, alla bella e brava comica Virginia Raffaele, fino a Gabriel Garco, annoverato senza dubbio tra i maschi più belli d'Italia. I cantanti in gara per questa edizione 2016 sono 20 e presentano una canzone inedita a ciascuno. Cominciamo con Deborah Iurato e Giovanni Caccamo, che cantano Via da qui, Lorenzo Fragola con Infinite Volte, di Zero Assoluto con Di Me e Di Te, Arisa con Guardando il Cielo, Elio e le Storie Tese con Vincere l'Odio, Anna Lisa con Il Diluvio Universale, Enrico Ruggeri con Il Primo Amore Non Si Scorda Mai, Fatti Bravo con Cieli Immensi, Noemi con La Borsa di Una Donna, Clementino con Quando Sono Lontano, Irene Fornaciari con Blu, Alessio Bernabei con Noi Siamo Infinito, Francesca Michelin con Nessun Grado di Separazione, i Dear Jack con Mezzo Respiro, Morbiani di Blu Vertigo con Semplicemente, Dolce Nera con Ora o Mai Più, Neffa con Sogno e Nostalgia, Valerio Scano con Finalmente Piove, Gli Stadio con Un Giorno Midirai e Rocko Hunt con Wake Up. Tra i tanti ed illustri ospiti del Festival di Sanremo, ricordiamo la cantante Ellie Goulding, Aaron Stramazzotti, Laura Pausini, il ballerino Roberto Bolle, Elton John, Nicole Kidman e Lisa, il cantante Maestro Gilles, Renato Zero Ipù con Riccardo Fogli, Enrico Brignano ma anche Cristina D'Avena, Aldo Giovanni Giacomo, Nino Frassica, il cantante latino J Balderi e Leonardo Pieraccioni. Il Festival è trasmesso dalle ore 20.30 sino a mezzanotte circa, sempre su Rai 1. Grazie a tutti.